In manette gli autori dell'omicidio e l'imprenditore Vincenzo Urza, avvenuto nel 2009 ad Altavilla Milici all'arresto a seguito del ricorso presentato alla Procura Generale di Palermo. Iniziati in alcuni distretti di Palermo, il razionamento dell'acqua, AMAP monitora costantemente le reti e non ha registrato grossi disagi per i cittadini. Lavori pubblici a Catania, la statua di Cerere e la fontana monumentale rigenerati da un totale restauro. Bagheria celebra la sua identità con un viaggio alla scoperta della piana di Bari, con un video di promozione del territorio. Un riconoscimento internazionale di bellezza e fascino dell'orto botanico di Palermo, il Carré Generò, realizzato da Hermès. Ben ritrovati alla seconda edizione del TG di Media News. Apriamo con la cronaca in manette gli autori dell'omicidio dell'imprenditore Vincenzo Urza, avvenuto nel 2009 ad Altavilla Milica. L'arresto è scattato a seguito dell'accoglimento del ricorso presentato dalla Procura Generale di Palermo. Vediamo. Arrestati due uomini di 61 e 37 anni, già noti dalle forze dell'ordine, ritenuti responsabili dell'omicidio dell'imprenditore Vincenzo Urza, avvenuto ad Altavilla Milica il 25 ottobre del 2009. I carabinieri della Compagnia di Bagheria, coadiuvati dai militari del reparto territoriale di Termini Merese e della Compagnia di Vercelli, dopo anni di serrate indagini erano riusciti a ricostruire l'esatta dinamica dell'efferato delitto, individuando il movente e dimandanti dell'omicidio dell'imprenditore, ucciso perché la sua impresa di Movimento Terra faceva concorrenza a quella della famiglia mafiosa locale, poi sbantellata con le operazioni Argo e Reset, nell'ambito della quale sono stati arrestati rispettivamente il reggente della famiglia di Altavilla Milica, Francesco Lombardo, ed il figlio Andrea. Le risultanze investigative raccolte, suffagate anche dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, hanno permesso di dare ulteriori certezze alle indagini dei carabinieri, che con nuovi elementi a disposizione sono riusciti ad individuare nei due arrestati, un pregiudicato di origini napoletane e un giovane di termini merese, i killer dell'imprenditore, ai quali sono bastati 20.000 euro per mettersi a disposizione. I due dovranno ora scontare rispettivamente la pena dell'ergastolo e 21 anni di reclusione. E cambiamo decisamente argomento, innaziato in alcuni distretti di Palermo il razionamento dell'acqua. AMAP monitora costantemente le reti e non ha registrato grossi disagi tra i cittadini. Dopo il primo giorno di razionamento dell'acqua a Palermo, che interessa diversi distretti, per un solo giorno a settimana, l'AMAP comunica che l'avvio non ha prodotto particolari disagi alla popolazione interessata. Questo è il centro in cui avviene il monitoraggio di tutti i parametri idraulici della rete di Palermo e provincia, dei 48 comuni della provincia di Palermo, che consente di verificare qual è la qualità del sistema e come ritorna quando vengono effettuate delle limitazioni, così come si è fatto proprio ieri. abbiamo visto che il sistema ha reagito bene, nel senso che non abbiamo avuto dei grossi disagi per la popolazione, le riserve che erano state costituite dai cittadini sono servite e oggi, così come nella zona in cui c'è stata questa limitazione, è tornata l'acqua e quindi è ritornata anche la normalità. la seconda sottorrete, la seconda distretto che vede oggi la limitazione, ci consentirà di effettuare un monitoraggio continuo per riscontrarlo tra una settimana attraverso degli algoritmi che ci permettano di verificare come si sono comportate tutte le reti che erano state sottoposte a questa limitazione. Un contributo importante c'è stato, abbiamo visto che abbiamo immesso un volume di circa 4-5 mila metri cubi di acqua in meno rispetto al precedente e quindi significa che abbiamo limitato appunto l'uso di questa quantità di acqua almeno dal prelievo degli invasi. E nel secondo giorno di razionamento idrico a Palermo siamo andati in via Brunelleschi nel quartiere che oggi prevede la sospensione settimanale dell'acqua, chiedere ai residenti cosa ne pensano del provvedimento del comune. L'acqua non c'era, però io siccome ho un recipiente piccolo sono arrivata a malappena sera, quindi ovviamente è difficoltoso con 5 persone in casa. Lei ha dei bambini? Sì. Cosa significa dover stare attenti a risparmiare l'acqua, soprattutto per chi ha dei bambini? Significa tanto, perché i bambini per esempio ne ho una di due anni e mezzo col pannonino ancora, quindi ovviamente vanno lavati, vanno puliti, si sporcono, ovviamente bisogna fare tutto quello che c'è da fare in casa, quindi ovviamente è difficoltoso. Secondo lei si sarebbe potuto fare in modo diverso piuttosto che razionare? Secondo me sì, comunque. L'idea mia era nelle ore mattutine, tutti i giorni ma nelle ore mattutine presto e poi un giorno a settimana, due giorni a settimana, tutto il giorno, secondo me, a parere mio. Purtroppo la situazione sta cambiando, non si prendono i provvedimenti e a un certo punto si dovrebbe pensare a dissalatori, mancanza di acqua è dovuta a questo, il clima che sta cambiando completamente. Qui a un certo punto quando c'è un problema si mette una toppa e non si risolve mai, bisogna risolvere all'origine prima che arriva nel cataclismo. Penso che l'acqua ci dovrebbe essere per tutto, senza essere razionato, ma se c'è l'acqua che beviamo. Purtroppo la cosa di ripartire dall'acqua è giusta, non è che si può fare diversamente. Cosa ne penso? Che non è una cosa bella, assolutamente. Stamattina hai aperto il rubinetto ed era secco? Sì, secco. Non abbiamo, è un problema, è un problema. Non avere acqua è un problema purtroppo. Ed è una cosa assurda vivere in un'isola, circondati dall'acqua e rimanere senza acqua. Noi il problema non ce l'abbiamo, abbiamo le cisterne, quindi non si crea il problema, ma ci sono quelle persone anziane che vivono comunque solo con l'acqua della città. No, da me un filo esce, perché io abito a piano terra e un filo d'acqua c'è. Vabbè, è pure giusto che c'è questo problema che si possa razionare. L'importante è che non ci nasciano completamente senza acqua, perché poi sarebbe un problema. Ecco, ma secondo lei andava programmata questa emergenza? Certamente se si poteva prevenire sarebbe stata anche una cosa buona, però siccome si sa che qua le cose vanno sempre a rilento in tutto, c'è sempre un rilento in tutto, purtroppo però è pure giusto che una ne parla per poter eventualmente migliorare la situazione a Palermo. Non avevamo acqua, purtroppo. Dobbiamo organizzarci, anche se ci avevano avvisato. Voi avete le cisterne? No, no, non abbiamo niente, né recipienti, né cisterne, né bidoncini. Andiamo nelle fontane e le riempiamo. Se siamo senza acqua dobbiamo risparmiare tutte. Ci fermiamo un po', si fa la raccolta e poi... Voltiamo pagina, giovedì 10 alle 19, il cinema di Castelvetrano proietterà il docufilm prodotto da Tele One, Falcone e Borsellino, Il fuoco nella memoria. Il titolare dell'unico cinema del paese è Salvatore Vaccarino, figlio di Antonio, ex sindaco di Castelvetrano. Nonostante le polemiche, si è rifiutato di proiettare Iddu, il film su Matteo Messina Denaro, in uscita il 10 in tutte le sale siciliane. Ascoltiamolo. Giovedì 10 ottobre alle ore 19, l'unico cinema di Castelvetrano, oltretutto che le dirige, non proietterà il film Iddu su Matteo Messina Denaro, ma il docufilm Falcone e Borsellino, il fuoco della memoria. Perché questa scelta e cosa risponde alle tante polemiche che ne sono seguite? Allora, la mia scelta netta e decisa di non proiettare il film su Matteo Messina Denaro è dovuta a due motivi. Uno personale, perché all'interno del film la figura di mio padre è rappresentata completamente distorta rispetto alla realtà e quindi lesiva assolutamente lesiva della sua memoria. Ma lei ne ha parlato con la regia di questo aspetto? No, 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 io non ho mai incontrato, non mi hanno mai contattato, non ho mai parlato con i registi, con gli sceneggiatori. Già dall'inizio avevano parlato che comunque la trama partiva da uno spunto reale e però poi successivamente, cioè successivamente, poi non lo sviluppo del film comunque era tutta una storia praticamente basata su, ripeto, su un fatto reale, ma poi completamente di fantasia. Aggiungendo tra l'altro che i personaggi in generale, hanno detto all'inizio, erano di fantasia. Hanno aggiunto che la famiglia Vaccarino col film non c'è già nulla, che il personaggio di Catello è un personaggio inventato, un personaggio di fantasia. Ma dico io, chi è che non conosce i fatti? Come fa a distinguere quali sono le cose vere e quali sono le cose finte? Ci potrebbe essere anche la possibilità, insomma, anche il pericolo che tramite il film si esalti la figura del boss quasi a farlo diventare idolo. Esattamente, sì, questa è una cosa che ho sempre pensato. Quando vengono fatti dei film di questo tipo, il rischio è grosso quello di mitizzare i criminali, che purtroppo, soprattutto per le giovani generazioni, c'è il rischio forte che vengono presi quasi a esempio. E sua intenzione è, appunto, organizzare la proiezione di questo docufilm su Falcone e Borsellino, dopo tutto quello che lei ci ha appena spiegato, per le scuole come materiale didattico? Sì, ovviamente sì. Intanto io otterrò un evento che sarà giovedì 10, cioè dopodomani, alle ore 19, presso il Cinema Marconi, ed è un evento a cui invito tutti, sindaco e amministrazione comunale tutta, presidi, professori, associazioni culturali, sportive, tutte le associazioni impegnate nel territorio, liberi cittadini, perché ritengo che la vera antimafia culturale deve essere fatta basandosi sull'esaltazione dei veri eroi, l'ho detto e lo ripeterò sempre. Aggiungo che questo film, perché ho scelto questo film? Per il suo alto valore storico e documentale. Lavori pubblici a Catania, la statua di Cerere e la fontana monumentale rigenerati da un totale restauro. È tornata agli splendori originari la statua della Dea Cerere con la fontana monumentale in piazza Cavour. L'opera, per tanti anni trascurata, scolpita nel 1757 dallo scultore catenese Giuseppe Orlando, è stata rigenerata dall'amministrazione comunale a seguito dei lavori di restauro che le hanno restituito i colori dell'epoca della sua realizzazione. Questo restauro della fontana con la statua di Cerere, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Sergio Parisi, presente alla riconsegna del sito, si pone in continuità con gli altri interventi di riqualificazione realizzati dall'aggiunta del sindaco Trantino su altri monumenti di richiamo turistico. In più punti, danneggiata dall'usura del tempo e da atti vandalici, la scultura settecentesca è stata restaurata da operatori esperti che l'hanno riportata ai colori e alle proiezioni naturali. Nel basamento monumentale di marmo di Taormina sono stati anche sostituiti i ciotoli mancanti e rimesso a nuovo l'impianto idraulico. Gli interventi di restauro sono stati diretti da Giovanni Calvagno, dell'assessorato comunale ai lavori pubblici, con Salvo Persano, responsabile unico del procedimento e finanziatico ai proventi della tassa di soggiorno. In occasione della settimana mondiale dell'allattamento all'ospedale Ingrassia di Palermo si è svolto uno dei tanti incontri previsti per informare genitori e futuri genitori sui benefici dell'allattamento per la salute della donna, del bambino e della famiglia. Vediamo. È un'occasione che ci consente di dire a tutta la popolazione residente in occasione della settimana mondiale dell'allattamento quello che è l'impegno della nostra azienda Asp di Palermo. La direzione generale ha adottato una polisi sull'allattamento, ossia un impegno per tutti gli operatori ad una formazione specifica che possa consentire di dare messaggi professionalmente validati e quindi sostegno perché i tre tempi importanti per l'allattamento al seno sono la promozione, la protezione e il sostegno. La formazione è un punto di forza che l'azienda ha messo in atto per rendere gli operatori sanitari pronti a rispondere a tutte le domande che questa pratica così antica ma messa un po' da parte dalle nostre donne possa avere tutte quelle risposte e tutta quella vicinanza che serva per sostenere le donne e le famiglie. Il supporto che cerchiamo di dare è quello che fin dalla fase della gravidanza tentiamo di far capire loro quanto è fondamentale sia per la salute che per il benessere psichico facendo capire come il contatto pelle a pelle che è il primo momento di comunicazione, il primo tatto che si sviluppa nei bambini possa essere la base di un attaccamento sereno, un attaccamento forte che poi nel tempo si va manifestando. Il nostro gruppo è un gruppo di pari, quindi il nostro sostegno è un sostegno fra pari quindi di madri che hanno avuto una buona esperienza di allattamento e che sostengono e aiutano altre madri in questa meravigliosa esperienza. Quindi il messaggio è proprio questo, quello di sostenersi a vicenda, di creare una comunità accogliente che possa appunto essere favorente rispetto a questa pratica che purtroppo in Sicilia è ancora lontana da raggiungere tassi ottimali. Molto spesso l'allattamento viene visto come un vincolo, si è gestito bene e si è ben seguiti non diventa per niente una schiavitù. Il Palermo Trapani ha compiuto 30 anni e le ha festeggiati con volontari, medici, amici e sostenitori durante una serata nella quale sono stati percorsi con un racconto di immagini e parole tre decenni di lotta ai tumori del sangue. Gli obiettivi erano due, aiutare la ricerca e sostenere i malati. Sul fronte della ricerca sono state fatte delle cose molto importanti, intanto la realizzazione del centro Trapianti, un reparto che è attrezzato con la tecnologia più moderna, un laboratorio di onchematologia tra i migliori d'Italia. In tutto questo Aile è stata presente, è stata presente finanziando apparecchiature, sostenendo il lavoro dei ricercatori, ma soprattutto finanziando biologi e finanziando medici e quindi siamo riusciti a legare Palermo ai progetti di ricerca nazionali e internazionali. Sul fronte del sostegno ai malati ce l'abbiamo messo tutta per non lasciare soli, soprattutto le persone fragili, le persone che hanno bisogno di essere sostenute, le persone anziane. Tutto questo in concreto è stato fatto con le case Aile, con l'assistenza domiciliare, con il sostegno psicologico, adesso anche con il nutrizionista, con l'attività fisica. Insomma abbiamo cercato di utilizzare le nostre risorse per migliorare le condizioni del paziente in una patologia molto lunga che ha bisogno della presa in carico di questo malato. Bagheria celebra la sua identità con un viaggio alla scoperta della Piana di Baria con la presentazione del video del progetto di promozione e sviluppo del circuito turistico culturale gastronomico della Piana. Abbiamo appunto presentato il video che è stato realizzato grazie al progetto di promozione e sviluppo del circuito turistico culturale denogastronomico della Piana di Baria. Oggi abbiamo presentato il progetto legato alla città di Bagheria, chiaramente questo progetto più ampio che ha visto coinvolti gli altri cinque comuni della Piana di Baria, quindi Casteldaccia, Santa Flavia, Trabbia, Altavilla Milicia e Bagheria. Oggi siamo qui e siamo veramente fieri, orgogliosi e onorati di aver svolto questo evento con la presenza appunto di tutti gli attori protagonisti. Vogliamo lavorare tanto, già stiamo lavorando per la promozione del turismo e sicuramente insieme, facendo sinergia, facendo squadra, raggiungeremo grandi risultati. Il sindaco, in primis, ha sempre creduto in questo brand e stiamo lavorando molto per diffondere appunto bagherie città delle ville e città del gusto. C'è un segno di svolto, un cambio di passo che vede protagonista innanzitutto l'amministrazione ma soprattutto l'associazionismo, tutti i portatori di interesse e gli operatori. Mi pare che insomma Bagheria si stia sdoganando per imporsi a livello nazionale e internazionale come una destinazione insieme con gli altri comuni della fascia della Piana di Baria come una destinazione turistica matura dove tutti mettono dei forti attrattori, sono attrattori di carattere culturale, paesaggistico, naturalistico ma soprattutto legati ai nostri prodotti tipici, alle nostre pietanze. Un complesso che poi rende questa destinazione un unicum e ritengo che si rientrerà a parlare molto di questa destinazione Piana di Baria anche perché ci sono in moto tante energie vitali. Un riconoscimento internazionale di bellezza e fascino dell'orto botanico dell'Università degli Studi di Palermo. Il carré genero è stato realizzato da Hermès a sostegno della valorizzazione di uno degli orti botanici più importanti nel mondo. Così si arricchisce il suo patrimonio con nuove preziose piante e con la riqualificazione di una serra. Il carré genero all'orto botanico di Palermo realizzato da Hermès a sostegno della valorizzazione di uno degli orti botanici più importanti in Italia. Sì, questo per noi è un grande riconoscimento. Il fatto che Hermès abbia legato il suo nome all'orto botanico di Palermo e quindi al sistema museale dell'Ateneo e quindi all'università perché ricordiamoci appunto l'orto botanico è uno dei sei musei del sistema e quindi all'Università di Palermo. Questo ci riempie veramente di orgoglio perché è la dimostrazione della bellezza di questo luogo. È un luogo romantico. Hermès aveva deciso di realizzare un prodotto legato a un giardino botanico e quindi ci sono state diverse candidature, fra cui quella dell'orto botanico di Palermo. Questo anche perché l'amministratrice delegata di Hermès, Francesca di Carrobbio, ha origine palermitane. Descriviamo questo riconoscimento internazionale di bellezza? Un disegnatore francese, François Haughton, che alcuni anni fa è venuto, è trascorso tre giorni letteralmente immerso nell'orto botanico e ha descritto alcune delle meraviglie. Questo non è un luogo ben preciso ma questa è una raccolta delle piante che lo hanno affascinato. è una sorta di invito ad entrare, questo spazio bianco sembra che faccia, è un invito letterale ad entrare dentro questo orto e noi riconosciamo le piante che sono qua. Sono due palme del Madagascar, la bismacchia e la palma triangolare che appunto noi abbiamo, sono tutte piante che sono nell'orto. Qua abbiamo la Dracena Draco, qua c'è un fior di loto, là ci sono le pomelie, questo è il pilastrino che c'è nel viale centrale che è stato inglobato dal ficus, dalle ridici del ficus, mentre qua dietro nascosto dalle piante c'è uno dei cippi che delimita la parte antica dell'orto botanico. Grazie a questo sostegno noi abbiamo potuto impreziosire l'orto di alcuni individui di grandi dimensioni. Davanti alla Serra Carolina abbiamo potuto collocare due esemplari di Macrozami e Murrei, una bella cicadacea proveniente dall'Australia che ha un fusto alto oltre due metri e quindi possiede sicuramente un'età di circa 200 anni. Si tratta di un esemplare maschile e di un esemplare femminile che sono posti davanti a una delle dieci serre più belle al mondo come è stata definita qualche anno fa da una rivista specializzata. Altre piante che abbiamo potuto comprare grazie alla generosità di Hermès sono due Giubbe Chilensis che impreziosiscono il palmetto di nuova Costituzione che abbiamo allestito grazie al finanziamento del PNRR. Presentata la 44esima edizione dell'Ottobrata Zafferanese, edizione record, oltre 230 espositori da tutta Italia. Presentata la 44esima edizione dell'Ottobrata Zafferanese in una veste rinnovata volgendo lo sguardo verso il mondo green ai giovani con un'area esclusiva dedicata al gluten free in assoluto la più grande mostra mercato dei prodotti tipici dell'Etna. Una pregevole vetrina dell'artigianato locale e la tradizionale area enogastronomica, inimitabile cassaforte di sapori di tutto il sud Italia. Si proseguirà domenica 13 ottobre con la sagra del miele, il 20 ottobre con la sagra delle mele dell'Etna e infine il 27 ottobre la sagra dei funghi e delle castagne. Mi parte la nuova edizione dell'Ottobrata Zafferanese, quattro domeniche, speriamo che siano quattro domeniche di primavera così come è stato l'anno precedente dove nel mese di ottobre c'è stato un gran caldo. Speriamo che turisti e visitatori vengano a visitare quella che è la mostra enogastronomica, una delle mostre enogastronomiche più importanti del sud Italia. Quest'anno abbiamo introdotto una serie di piccole novità anche per coinvolgere coloro i quali vengono a Zafferane, alcune fasce di turisti, parlo soprattutto delle famiglie organizzando una serie di tour proprio qua all'interno del palazzo municipale o ancora rivolte ai più giovani le possibilità di salire attraverso i quad sul fronte lavico hotel 1991. L'Ottobrata fonda le radici nella nostra storia, soprattutto culinaria e nella nostra tradizione. Quest'anno abbiamo raggiunto un record di oltre 220-230 espositori che da tutta la regione Sicilia e anche da alcune parti d'Italia si apprestano a partecipare a questa 44esima edizione dell'Ottobrata Zafferanese. Ci sarà inoltre la possibilità di fare delle visite guidate, noi faremo conoscere il nostro territorio, da quello che è il centro storico del paese a quello che per esempio è la colata lavica del 92, momento per noi importante e storico della nostra comodità. Nuova veste per il parco archeologico di Segesta dopo i danni causati dall'incendio dei mesi scorsi che distrusse gran parte delle aree di ristoro destinate al pubblico. Dalle ceneri si rinasce e noi abbiamo voluto rinascere da quell'occasione così terribile. Ci sono altri progetti in corso, per esempio l'adeguamento dei percorsi che ci portano al Tempio per i diversamente abili, parliamo diversamente abili della vista, motori, anche sordomuti. La parola magica è servizi, servizi sempre più di qualità. Da un disastro nasce una grande opportunità, proprio l'anno scorso eravamo qui e registravamo questo incendio che aveva devastato questo sito importante. Ieri ha registrato veramente degli ingressi record, parliamo di oltre 2200 presenze, a testimonianza dello straordinario lavoro che si sta facendo proprio per rilanciare i beni culturali e valorizzare i nostri beni culturali. Io ricordo sempre qual è la mission dei beni culturali, ovvero la valorizzazione la tutela e la fruizione. Dal disastro una grande opportunità è oggi, qui abbiamo sicuramente un'operazione attenta di restyling della parte centrale d'accoglienza, perché come sempre mettiamo al centro il visitatore e il turista. Dall'11 al 31 ottobre si terrà la non edizione del Teatro Bastardo, festival dedicato alla ricerca ai linguaggi ibridi, alla contaminazione e alla sperimentazione teatrale. Si parte venerdì 11 ottobre con un'opera di Ernesto Tomasini che si chiama La signora Palermo ha due figlie. È un lavoro che sarà importantissimo per la città di Palermo in cui la nostra tradizione abbraccia la rivoluzione. Noi siamo anche molto fiere di coprodurre questo lavoro. Sabato e domenica siamo ancora al Monte Vergini con un lavoro di prosa contemporanea di due artiste residenti a Berlino, Sanja Grosdanic e Bassem Saad, libanese e bosniaca, e dopodiché un lavoro di due ragazze sorelle di Damiano, sono un duo veramente un'astro nascente della nuova coreografia italiana. Infine abbiamo Claudia Puglisi, altra autrice e regista palermitana, con Baby Horror Show, che è una rilavorazione delle storie di Edgar Allan Poe per bambini. Tutte le informazioni e la biglietteria www.teatrobastardo.org La nona edizione di Teatro Bastardo torna dall'11 al 31 ottobre. Quest'anno siamo al Teatro Montevergini, che è stato uno degli spazi fondamentali per la scena teatrale palermitana, che in occasione del Festival sarà riaperto. Proseguiamo poi al Teatro Garibaldi in collaborazione con il Festival Prima Onda e poi presentiamo un altro spettacolo con il Museo Pasqualino, per poi concludere il programma all'Arenella, dove siamo già da due anni, con un progetto in dialogo con lo spazio urbano. Bella iniziativa da parte dei Rosaner Unneghie, comunità di tifosi del Palermo, che ha organizzato una raccolta fondi e regalato una giornata indimenticabile ai ragazzi della Fondazione Casa Federica. Lo sport come veicolo di inclusione e solidarietà. Ancora una volta importante è stato il contributo dei Rosaner Unneghie, gruppo di tifosi legati dall'amore per il Palermo. L'organizzazione ha regalato un sogno ai ragazzi della Fondazione Casa Federica. Qualche mese fa con i ragazzi di Rosaner Unneghie abbiamo pensato di realizzare una raccolta benefica a favore della Fondazione Casa Federica. La Fondazione Casa Federica è impegnata nel dare un futuro a dei ragazzi meno fortunati e noi per l'appunto come tifosi e come palermitani abbiamo voluto regalare loro l'opportunità di vivere una giornata speciale. Grazie a una raccolta benefica organizzata dalla community, una decina di ragazzi della Fondazione ha assistito allo stadio all'ultima partita dei Rosanero. L'iniziativa ha permesso a nove ragazzi di vivere il match fra Palermo e Salernitana dalla gradinata, un'esperienza unica che difficilmente sarà dimenticata. Il gruppo non si è limitato solo a questo, oltre ai biglietti per la partita sono stati realizzati e donate maglie, braccialetti, spillette e adesivi del gruppo contribuendo a creare un'atmosfera di festa e coinvolgimento. L'iniziativa ha avuto grande successo confermando ancora una volta il legame speciale che unisce la tifoseria Rosanero alla città di Palermo e alla sua comunità. E questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News.